Proprio in questi minuti sta iniziando la conferenza stampa del tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, conferenza stampa prepartita perché domani con inizio alle 14 all'Adriatico Cornacchia il Pescara affronterà, ospiterà la Virtus Entella, match fondamentale in chiave salvezza, il Delfino lo ricordiamo è penultimo in classifica, sta peggio la formazione Ligure che è ultima, ma io direi di andare subito a sentire le parole del tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia e poi torneremo in studio per continuare il telegiornale. Mister, buon pomeriggio, Costantini di TV6, le chiedo come ha lavorato in queste due settimane la squadra vista la modalità individuale e se c'è il rischio purtroppo di vedere una squadra domani frastornata da tutti questi eventi perché sono state due settimane dove ne sono successe di tutti i colori e lavorare e preparare una partita così delicata in queste condizioni si rischia di essere un po' tra virgolette storditi da tutti questi eventi. Quanto rischio c'è di vedere una squadra frastornata domani? Non deve esserci rischio, è quello che dico alla squadra da diversi giorni insomma, dobbiamo andare oltre, oltre a tutto quello che ci è successo, che ci sta succedendo. Le difficoltà sono enormi, ma sono enormi per tutti in questo periodo, soprattutto chi ha avuto la sfortuna di incappare in questo problema Covid e domani la squadra dovrà dare delle risposte soprattutto a se stessa e a credere fortemente ancora in queste cinque partite che ci devono portare assolutamente all'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente. Se le dicessi tutto quello che abbiamo vissuto dovremmo stare tre ore a fare conferenza stampa, invece noi dobbiamo andare oltre e a zerare tutte le negatività che ci sono e pensare alla partita di domani che non sarà assolutamente facile, basti vedere, e anche questo diceva la squadra, quello che è successo tra Parma e Crotone quindi nessuno ci regalaria niente, dobbiamo essere bravi noi ad andarcelo a prendere. Ma com'è lavorato la squadra? Come stiamo lavorando? Stiamo lavorando in maniera individuale, oggi sarà la stessa cosa, allenamenti lunghi perché poi chiaramente ogni seduta video devi lavorare a gruppetti e quindi ti porta via del tempo stesso discorso, devi lavorare in maniera settoriale perché non puoi lavorare in maniera collettiva e quindi l'abbiamo preparata così, però ripeto, non voglio assolutamente alcun alibi o andare ad appellarci a situazioni che non ci appartengono, ma che tra virgolette ci appartengono, ma dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a vincere la partita di domani. Scusi mister, giusto per capire e chiarire, ma non c'è stato quindi l'ok da parte dell'ASD per gli allenamenti collettivi? No, al momento no. Perfetto. Mister, buon pomeriggio, le chiedo se questo stop sia arrivato nel momento migliore del suo Pescara perché comunque Pescara stava facendo bene, era in crescita e se è vero quello che sta dicendo che non mi è arrivato l'allenamento collettivo come ha fatto ad allenare una squadra che deve preparare una partita così importante se non provando appunto di squadra, concetti, idee? In maniera settoriale, prima con i portieri, poi con i difensori, poi con i centrocampisti, poi con gli attaccanti, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di legare tutto ciò, però l'identità nostra deve rimanere in quella e assolutamente poi deve crescere. E quindi dobbiamo metterci molto del nostro, dobbiamo metterci molto spirito, molta compattezza e soprattutto la voglia di salvare il Pescara. Il resto non ci deve appartenere, non ci appartiene. Dobbiamo guardare avanti con grande fiducia e giocare una grande partita domani. Abbiamo anche tanti giovani che si sono aggregati a noi di qualità. È chiaro che magari i concetti loro saranno diversi dai nostri, ma sono ragazzi, non giocatori, che ci stanno mettendo tutto quello che hanno. Quindi se avessimo bisogno sono punti. È arrivato lo stop nel momento migliore del Pescara, secondo lei? Ma noi non abbiamo la controprova e quindi mi piace pensare che il momento migliore del Pescara inizio domani e poi magari da domani ricevere buone notizie, soprattutto da quelli che sono gli attuali positivi e soprattutto da chi è magari ancora infortunato che speriamo di recuperarlo per il lascio finale. Chi deve recuperare, mister? Tra l'epoca ho detto che ci sono alcune incognite, vediamo nell'allenamento del pomeriggio, presumo che ci sia un canale di comunicazione con lo staff medico, quindi ci può dire chi sono i giocatori che in questo momento lei non ha pienamente recuperato. Innanzitutto faccio i miei complimenti allo staff sanitario che veramente stanno facendo un lavoro incredibile. Dobbiamo valutare oggi Bocchetti, De Sena, Galano, Maestro, Macin. Sono questi i giocatori che dobbiamo valutare perché poi Sorrelsen, Balzano, Mimusciai e Tabanelli sono fuori e certamente non riusciremo a recuperarli. Balzano e Mimusciai sono tutti e per il resto sfoglieremo la margherita nel pomeriggio. Mister Popoi Riggio, quella di domani potrebbe forse essere una delle gare più complesse per il Pescara perché la Virtus Centella appunto non ha niente da perdere, il Pescara viceversa forse ha quasi tutto da perdere, questa situazione ovviamente non l'aiuta. mi viene da pensare a Pescara Livorno dello scorso anno con i Toscani che erano in Geri Trocesi e il Delfino fece molta fatica a portare a casa la partita. Sicuramente è una partita difficile, già di per sé, quindi non esistono partite facili, non esiste pensare a un'Intella che ci regali qualcosa, questo è chiaro ed evidente, quindi è una squadra che si è cambiato allenatore per dare una scossa, ci sono ancora cinque partite di campionato e quindi ognuno cercherà di fare bella figura, matematicamente l'Intella non è ancora in retrocesso e quindi spingerà al massimo e noi dobbiamo andare oltre tutte quelle che sono poi le difficoltà successive a quello che abbiamo vissuto in questi 15 giorni, quindi certamente sarà una partita da giocare intensa, dobbiamo essere soprattutto bravi di testa, soprattutto bravi a leggere i momenti della gara e devono farsi trovare tutti pronti, perché domani ci sarà bisogno di tutti, compreso dei ragazzi che sono aggregati al nuovo. Posso? Se è possibile, se è possibile un'altra domanda, alla luce di quelle che possono essere le assenze potenziali, lo so che è stato difficile lavorare in queste settimane, ma si può vedere anche un Pescara diverso rispetto ai moduli visti in questo periodo con lei, 3-5-2 e 4-3. È possibile immaginare anche un Pescara diverso alla luce della conta che farà? Sinceramente no, anche perché, anche se avessimo voluto, non abbiamo potuto far nulla e quindi tutto ciò non è possibile. ma domani la squadra dà la risposta importante, al di là del modulo, al di là dei giocatori, chi scenderà in campo sa, chi subentrerà sa, che domani per noi è una partita troppo importante.